Un omaggio alla terra, ai colori, al paesaggio e all'arte. La piazza sull'acqua al Brugo San Giuliano, in quello che una volta era l'invaso del ponte di Tiberio, farà ancora una volta da cornici a giardini d'autore, l'evento dedicato alle piante, al giardino e alla bellezza. Dal 17 al 19 settembre si svolgerà l'edizione d'autunno. Ci siamo immaginati un po' un weekend. In un momento in cui i weekend non si possono fare con così tanta facilità, ci siamo immaginati un weekend fuori porta, dove in qualche modo poter passare tre giorni immersi nella bellezza delle fioriture autunnali. L'autunno sappiamo che è il momento migliore per mettere mano al giardino e colorarlo lungo tutto l'inverno. Quindi i giardini d'autore anche questo insegna che in realtà questa stagione è una stagione perfetta per iniziare e rimettere mano al giardino dopo la pausa estiva. Ci siamo immaginati un weekend sulle rive della piazza sull'acqua, un po' come Parigi, dove ci saranno artisti, ci saranno picnic sull'erba, ci sarà una terrazza sull'acqua che creerà per tre giorni un ristorante affacciato sul ponte di Tiberio. Per festeggiare i 2000 anni del ponte di Tiberio ci sarà giovedì 16 settembre l'evento speciale Il Viaggio. Il cibo, le note, i racconti, la danza e l'arte sulla piazza sull'acqua. Da venerdì spazio ai protagonisti dell'edizione settembrina, i vivaisti con le loro collezioni botaniche, i produttori della Giardini Farm Market, i designer, gli artigiani, i laboratori per i bimbi, i food truck e le proposte gourmet. Novità di questa edizione, i tavoli galleggianti. In questi tavoli che sono forniti dai ragazzi della Darsena verranno organizzati sia delle colazioni che dei pranzi e degli aperitivi. Sarà la novità di quest'anno, quindi una suggestione nuova su prenotazione. Si potrà prenotare il proprio posto e quindi godersi delle arcate del ponte facendo un giro con questo bel tavolo da sei persone. Proponiamo la cena nella giornata di giovedì, riproponiamo il picnic, comunque una cosa più semplice, più facile anche per le famiglie. E poi anche nella giornata di sabato accompagna la cena, scusate il picnic, le note del pianoforte di Davide Tura.